Mi sono rifugiato nei miei appartamenti, solo qui sono al sicuro. Allora, per prima cosa portate via quel quadro lì e al suo posto ci mettiamo la foto di Mavoni. Sarà fatto. Ma Giulio, Umberto, che fate? Si scassi per favore. Poi qui sulla scrivania un vassoio di castagne, volgamente detto Mavoni. Ma che sta succedendo? Si è fitto. E poi via questa targa col nome di Silvio, la sostituiamo con quella di Bobo. Cribbio, e tu Umberto, non dici niente? Si, fora di ball!